Al calcio la notizia del giorno è che torna il nome Nocerina, infatti è stata accolta la richiesta della società città di Nocera di chiamarsi appunto Nocerina, questo è altro nel servizio che ora parte. Per una volta partiamo con la serie D, con una storia che ritorna ma che nei fatti non era mai stata accantonata, adesso è ufficiale, i tifosi delle due Nocera hanno di nuovo la loro amata Nocerina, gli organi competenti hanno dato il via libera al cambio di denominazione chiesto qualche settimana fa dai dirigenti del città di Nocera, il commiato ad un nome che è durato un solo anno, giusto il tempo di vincere il torneo di eccellenza, un nome che aveva tenuto lontano dallo stadio una parte corposa del tifo rossonero, specie gli ultras legati inscindibilmente al nome storico della loro squadra. Torna la Nocerina, primo nuovo tassello per una stagione che si spera possa regalare soddisfazioni e nuove vittorie. Passiamo alla serie B, due terzini, un attaccante e un giallo. In casa salernitana sono arrivate le due ufficialità degli acquisti di Javerone e Vitale, il primo reduce da una buona seconda parte di stagione al Vicenza, il secondo mancino di qualità che era diventato un idolo a Terni. In maglia rosso-verde anche parecchi gol perché rigorista e specialista delle punizioni. Il giallo è invece rappresentato dalla notizia che l'attaccante Donna Rumma partirà in ritiro con la Lazio e non con i Granata. Questo fa presagire un contratto particolare per la punta ex Teramo che molti pensavano di proprietà salernitana e non Lazio. Di certo, attorno al club bianco celeste di Lotito in queste ore ci sono notizie strane, vedi il caso della firma fantasma dell'allenatore Bielsa. Infine la Paganese. Trapela tranquillità dalla dirigenza in merito all'iscrizione al campionato. Di certo qualcosa a livello societario starebbe per cambiare. Questioni legate alle quote sarebbero al vaglio del presidente Trapani che potrebbe presto tirare fuori dal cilindro qualche novità. La situazione non sta frenando le operazioni di mercato che vengono portate avanti con il massimo riservo. Si attendono ufficialità rispetto ad alcune trattative già avviate da tempo. Il giornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.